La scorsa notte i carabinieri di Borgo Santa Maria hanno rintracciato e arrestato nel corso di una festa paesana un 29enne albanese, in Italia e senza fissa dimora, in esecuzione all'ordinanza di un'applicazione di misure cautelari personali, emessa dal GIP dal Tribunale di Pesaro. L'uomo è ritenuto responsabile di tre furti in abitazione e uno tentato, commessi tutti a ginestretto di Pesaro. Durante i mesi estivi, infatti, sono stati rubati un televisore, denaro in contante, gasolio, dal serbatorio di un trattore agricolo, tutti ai danni di un 96enne in stato di minorata difesa. Durante i servizi di osservazione e controllo, i militari avevano raccolto indizi inconfutabili di consapevolezza a carico del 29enne, che ora è rinchiuso nella casa circondariale di Pesaro. Grazie per la visione!